La legge di stabilità non è una monade, la legge di stabilità è un pilastro di una strategia più generale che è fatta di riforme. Allora, se noi possiamo dire che abbiamo realizzato un pezzo del programma storico del centrodestra è anche per il Job Act, per l'articolo 18, per la riforma del mercato del lavoro. Una dozzina di anni fa il centrodestra provò a riformare il mercato del lavoro e non ci riuscì. Dopo 12 anni noi stiamo superando l'articolo 18 e al di là del gioco delle parti per cui alcuni nostri amici di Forza Italia dicono che non abbiamo superato l'articolo 18 perché sarebbe troppo grave evidentemente da quel punto di vista riconoscerlo. Noi abbiamo superato l'articolo 18 e stiamo cambiando lo statuto dei lavoratori che era stato approvato quattro mesi prima che io nascessi, anzi cinque mesi prima che io nascessi, cioè nel maggio del 1970 e lo stiamo facendo noi all'interno di un governo guidato dal leader del Partito Democratico che non è un noto eversore comunista ma è un partner con cui noi a tempo stiamo governando questo paese realizzando i nostri obiettivi. Noi dentro questo governo stiamo realizzando un pezzo importante del programma del centrodestra e del popolo della libertà del PDL.